Completato l'iter per procedere ai lavori di adiugamento dell'impianto sportivo Andrea di Concilio in via Taverne, si attende solo di affidare la gara d'appalto. Gli interventi previsti mirano a risolvere alcune problematiche a carico della struttura sportiva che ospita nel corso dell'anno una serie di eventi sportivi, tra i quali il campionato di basket di serie C Gold, al fine di renderla più confortevole e funzionale. In particolare sono previsti rifacimenti facciate con interventi di coibentazione e di tipo cromatico, adeguamento impianto trattamento, aria condizionamento, rifacimento linee pluviali con il convogliamento acque piovane, pulitura e lucidatura, parchè, aria di gioco, rimontaggio tribune e parte posteriori canestri con ampliamento posti a sedere, sistemazione esterna. I lavori prevedono una spesa di 320 mila euro, finanziati con mutuo contratto presso cassa depositi e prestiti e la tempistica e pare a 150 giorni. A breve, spiega il sindaco Coppola, inizieremo gli interventi di adeguamento del palazzetto di concilio per risolvere alcune criticità, tra queste le fastidiose infiltrazioni, si agirà sul condizionamento e la coibentazione portando così maggiore comfort di permanenza nella struttura a seconda della stagione e poi verrà operato un trattamento specifico per il parquet e la giunta delle tribune già presenti in passato. Insomma, un bel restyling per dare maggiore dignità ad una tra le strutture fiori all'occhiello della nostra città. Grazie ai suoi impianti, affirma il consigliere con delega allo sport Giuseppe Cammarota, Agropoli può dare molto spazio agli eventi sportivi che in epoca non segnata dal Covid-19 iniziavano in primavera per terminare talvolta in autunno, chiamando in città migliaia di persone e per fare questo c'è bisogno che le strutture siano mantenute in modo da essere sempre efficienti, al termine dei lavori il nostro palazzetto sarà ancora più funzionale.